ciao a tutti ragazzi buona domenica io sono qui con un ansia addosso che la metà ne basterebbe però ce la facciamo andare bene e questo è dato che ci sono delle novità provo a mettervi subito la formazione titolare anzi quasi subito prima di tutto come al solito iniziamo il video con un mi piace per supportare questo canale la sua crescita e scaricando one football perché la formazione che vi farò vedere adesso ok one football link per scaricarlo qui sotto in descrizione oppure inquadrate questo qr code la formazione che vi farò vedere adesso potrebbe cambiare durante la giornata perché ovvio non è quella definitiva non è quella ufficiale allegri potrebbe avere delle modifiche alla sua idea la rifinitura di ieri e quindi su one football andrete a monitorare tutta la situazione ora vi faccio vedere la formazione eh sì ci sarà vladimor ci sarà vladimor ma non è una sorpresa per me o almeno dovrebbe esserci vladimor come vi dicevo prima potrebbero cambiare alcune cose non è una sorpresa perché ve lo dicevo bene o male dalle pagelle con l'elasverona che non l'avremmo visto col sassuolo ma lo avremmo visto con l'atalanta col sassuolo abbiamo visto in corso d'opera per necessità con l'atalanta lo vediamo dall'inizio per motivo tattico e cioè andare a marcare uno contro uno i suoi difensori centrali i loro difensori centrali perché serve questo l'atalanta è una squadra che gioca tutto campo uno contro uno ti viene a prendere in questo modo e tu devi cercare di tenere alti questi tre attaccanti sui tre centrali per andare a rubare palloni a centro campo e andare in verticale subito sulle ripartenze questa sarà la partita il piano gara prevedibile sin da dal giorno dopo verona dopo aver visto come abbiamo approcciato la gara con l'elasca appunto una difesa 3 non mi sorprende non mi sorprenderebbe perché non è ancora quella di giro non mi sorprenderebbe vedere il tridente dell'inizio anche questa sera come non mi sorprenderebbe vederlo con il torino e forse addirittura con l'inter anche se l'inter gioca in una maniera diversa è vero che la difesa 3 ma gioca in una maniera diversa da atalanta turino e della sverona però l'atalanta ero abbastanza convinto che almeno l'ipotesi ok dato che non è quella titolare che almeno l'ipotesi del tridente potesse esserci in maniera concreta e quindi questo è ci sarà soltanto da verificare intanto il terzo e il sinistro perché potrebbe essere decidito come alessandro ma al centrocampo perché quando andiamo a trattare zaccaria all'inizio ricorderete feci il video dicendovi ragazzi zaccaria è un mediano classico il volante la mette davanti alla difesa l'esordio con l'elasverona invece mi ha dato un'altra indicazione di zaccaria diversa da quella che è stata analizzando i video tra borussia un cesglava che è nazionale del ragazzo e ho visto un giocatore che si inserisce anche tanto un giocatore che corre veramente tanto un centrocampista box to box quindi una nuova idea su zaccaria che me lo fa spostare a livello grafico sul centro-destra con locatelli davanti alla difesa perché dico questo perché con arthur allegra ha lavorato in questo modo ha ragionato in questo modo quindi il giocatore davanti alla difesa un po come locatelli è vero che locatelli è più un centrocampista anche di inserimento e di rifinitura rispetto ad arthur però immagino che il ragionamento di allegri sia il seguente e quindi la qualità in mezzo una spina dorsale di qualità con bonucci e locatelli che possano orchestrare e poi sulle mezziali sia a sinistra che a destra due giocatori in grado di buttarsi dentro andare anche a riempire gli spazi e soprattutto che possano recuperare tanti palloni per il discorso che facevamo prima è emblematico il primo tiro in porta che fa Vlaovic nella sua carriera viventina con quella palla recuperata al centrocampo e Rabiot che va in verticale quindi mi immagino una partita fatta esattamente su questa falsa riga quindi Rabiot e Zaccaria mezze ali a recuperare palloni e andare subito a cercare la verticalità di Dybala, Morata e Vlaovic che possono fare male nell'uno contro uno contro i difensori dell'Atalanta per il resto Danilo titolare, anche questo me lo aspettavo dopo non aver visto il brasiliano in Coppa Italia bonucci, delete, la coppia titolare, c'è non importa quindi questa dovrebbe essere la formazione vado solo a fare un passettino indietro rispetto al video che ho fatto ieri dicendovi, ieri vi ho parlato di partita decisiva no? e qualcuno mi ha detto no guarda in realtà Luca non è decisiva perché matematicamente non è determinante ai fini della classifica è vero che matematicamente non è determinante, siamo d'accordo e infatti a me fa ridere quando mi chiedono a settembre questa partita può essere decisiva a settembre come può essere a settembre una partita decisiva però capite bene che nel ritorno quando mancano così poche partite l'ultimo treno per gli scontri diretti qualcosa di decisivo ci sarà vi dico la mia definizione di decisivo perché se no giustamente qualcuno potrebbe dire no guarda secondo me stai dicendo una cosa non corretta, non esatta vi riporto a Juventus-Milan dell'anno scorso si gioca a 4-5 giornate dal termine una partita decisiva ai fini dell'ingresso Champions io ero abbastanza convinto che una delle due potesse uscire di fronte a quello scontri diretto in caso di vittoria di uno dall'altra la Juventus perde 3-0 e addirittura perde anche il vantaggio che aveva ottenuto vincendo 3-1 a San Siro sugli scontri diretti quindi virtualmente una vittoria del Milan da 4 punti a 4 giornate dalla fine che tagliano fuori la Juventus quasi sicuramente dalla corsa Champions poi cosa succede? che l'ultima giornata avviene il miracolo e cioè che Faraoni va a segnare contro il Napoli e Petagna all'ultimo secondo non riesce a fare il gol del 2-1 che qualifica il Napoli a Champions e quindi lo condanna l'Europa League e quindi la Juve va in Champions League all'ultima giornata è vero come è vero che non è di peso da noi nel senso che noi dovevamo vincere a Bologna e nient'altro e poi gufare una tra Milan-Napoli ecco per quello che vi dicevo che era decisiva con Juve-Milan per quello vi dico che è decisivo questo Atalanta-Juve perché non è matematica non è che se la vinci o se la perdi se è tagliato fuori allora decisivo lo usiamo solo alle giornate in cui c'è la matematica no però quando una squadra poi ha tutto il destino dalla sua parte che quando dipende da te puoi fare un certo tipo di ragionamento di approccio quando non dipende da te è brutto che è un po' il motivo per cui non credo allo scudetto perché non dipende da te dipende anche dall'Inter dal Napoli e dal Milan ma credo in questo momento che la qualificazione Champions possa essere alla portata della Juventus anche se lo sapete il mio è utopia fino al 28 di febbraio rimane però è alla portata perché dipende da te e dipende da te proprio perché passa da una partita decisiva come quella di stasera contro l'Atalanta questo è il mio ragionamento poi ci sta che qualcuno non sia d'accordo che qualcuno considera decisivo soltanto il livello matematico questo è il motivo per cui mi viene da dire che sì questa partita è decisiva al 100% è perché non possiamo sempre ragionare su azioni esterne su coincidenze su cose che avvengono su altri campi per favorire te che se non vanno come devono andare rischi di non raggiungere l'obiettivo è decisiva è decisiva poi qualcuno mi parla di scudetto ancora giustamente dopo il pareggio di ieri sera tra Napoli e Inter lo sapete come la penso io non credo allo scudetto c'è una maniera per far sì che io possa iniziare a credere nella corsa scudetto non nello scudetto nella corsa scudetto nella Juve dentro la corsa scudetto ed erano tre condizioni la prima si è realizzata ieri sera e cioè la non vittoria dell'Inter col Napoli pareggio risultato perfetto per quello che ho in mente io c'è l'Inter che non deve vincere col Bologna in recupero ma soprattutto c'è l'Iventus che deve vincere a Bergamo stasera quindi in questo momento non parliamo di scudetto poi il Milano oggi gioca alle 12.30 me lo guardo sicuramente ovviamente se dobbiamo cullare questo sogno il Milano oggi non deve vincere un bel pareggino e poi ci abbracciamo mi pare che giochi con la Sampa addirittura quindi Giovinco facci vedere di cosa sei capace e poi però noi dello scudetto in questo momento non dobbiamo parlarne non dobbiamo pensarci noi dobbiamo pensarci che stasera c'è l'Atalanta da battere per entrare in Champions fine quello è il discorso vietato pensare allo scudetto in questo momento vietatissimo perché se inizi a pensare troppo in là poi l'immediato futuro ti crolla addosso tu puoi avere il diritto di pensare di essere nella corsa a scudetto vincendo stasera e vedendo cosa farà poi l'Inter nel recupero e poi c'è l'Inter che deve venire a giocare a casa tua e devi vincere pure quella perché sennò poi differentemente rimani a 7 punti una roba del genere 8 punti e quindi non ha neanche più senso parlarne quindi per il momento davvero non pensiamo allo scudetto ve lo chiedo per cortesia vogliamo bassi mattoncino dopo mattoncino partita dopo partita e vedendo questi eventi esterni proprio per quello che vi dicevo prima purtroppo quando sei troppo distante non dipende solo da te e devi anche sperare che si incastrino altre cose sulla Champions dipende davvero tutto da te a partire già da questa sera con Vladimir è la volontà di vincere una partita che non è decisiva a livello matematico ma è decisiva perlomeno a livello psicologico fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti noi ci vediamo stasera con live reaction post partita e tutto quello che ne deriva da un classico incontro poco poco che provoca poca ansia a livello scopere un po' 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 a livello scopere un po'